Trafficando nella rete ho scoperto questo, è di una giornalista statunitense, si chiama Lara Logan. Lei ha fatto interviste e dichiarazioni che sono state definite bombe di verità cadute sulla Casa Bianca. Io ho scelto un pezzettino che parla del battaglione Azov e dice vedi la disonestà quando si tratta del battaglione Azov che è finanziato dagli Stati Uniti e dalla Nato. Puoi trovare le loro foto online con in mano la bandiera della Nato e la svastica e allo stesso tempo indossano un emblema che contiene il sole nero dell'occulto che era un emblema delle SS naziste e contiene anche simboli come il lampo delle SS. Questo è presente in tutto l'esercito ucraino. Puoi vedere quel sole nero dell'occulto sui loro giubbotti antiproiettile, perfino sulle divise delle soldatesse fatte sfilare davanti al mondo come esempio dell'indipendenza dello spirito della nobiltà ucraina. La Casa Bianca vuole che tu creda che questo non ha importanza, che è solo un piccolo numero di soldati. Non è vero. Il battaglione Azov si è fatto strada uccidendo nell'Ucraina orientale. Non vogliamo ammetterlo. Questo è il motivo per cui la Crimea ha votato per l'indipendenza. Questo è il motivo per cui ha voluto stare con la Russia. Perché noi, dei media e in Occidente, non riconosciamo la realtà di ciò che sta succedendo. Sotto il profilo storico, spiega Lara Logan, l'Ucraina occidentale ha sostenuto i nazisti. Era un quartier generale della SS. La CIA e Alan Foster Dallas, il segretario di Stato di quel tempo, hanno dato l'immunità ai nazisti ucraini ai processi di Norimberga. Quindi c'è una lunga storia degli Stati Uniti e delle nostre agenzie di intelligence che finanziano e armano i nazisti in Ucraina. Cioè non sono un gruppo di ragazzi valorosi che leggono Kant. Sono i discendenti degli ucronazisti che collaborarono con le SS. Erano 250 mila. Sono stati responsabili naturalmente delle atrocità che immagino tutti conosciate. Ma il punto su cui volevo chiamare la vostra attenzione è l'operazione di perversione simbolica di cui è complice il nostro mainstream. Cioè dice che la svastica l'hanno scelta questi ragazzi che leggono Kant o ascoltano Kant perché è un simbolo runico. Ora dire questa cosa è secondo me un'operazione criminale. Cioè dire che in Europa, in Ucraina dove sono stati assassinati centinaia, centinaia di migliaia di ebrei, comunisti, rom, anarchici, via dicendo, sotto la svastica loro l'hanno scelta perché è un simbolo runico. Non solo questa è una spaventosa presa per il culo, ma potrebbe avere conseguenze devastanti sulla rinascita in Europa di forze naziste. Ora questa non è una giornalista della Pravda, non è una giornalista dell'Isvestia. la signora Lara Logan ha lavorato per CBS, CNN e da ultimo per Fox News. Solo che questo è un esempio di quello che è il giornalismo anglosassone. Mentre i nostri, non tutti con le debite eccezioni, però giornalisti non sono più. Sono semplicemente velinari su ordine del governo degli Stati Uniti d'America. E da ultimo vi voglio dire questa cosa. Di questi fatti svastiche esibite e mistica, perché hanno anche il cerchio nero magico che era delle SS? Guarda, guarda, le autorità delle comunità ebraiche internazionali non hanno detto niente. Però quando io difendo i diritti dei palestinesi mi dicono che sono un ebreo antisemita. Allora, capite che livello di perversione abbiamo raggiunto e ci voleva anche Lavrov che ha detto una delle cose, l'idea che Hitler fosse di origine ebraica. Ha circolato, è una di quelle storie che fanno colore. Io non so se fosse di origine ebraica, ma prima di tutto un ebreo è un uomo, ci può essere anche un ebreo, faccio un nome a caso, Zelensky, che pur sependo queste cose fa finta di niente perché evidentemente gli conviene altro. E adesso vi dico una cosa, c'è un libro, potete leggerlo, è un Newton Compton che racconta gli ebrei, magari erano Mischling, un nonno ebreo, due nonni ebrei, hanno combattuto nella Wehrmacht e c'erano anche ebrei che erano negli alti ranghi, sospettati di origine ebraica. Per esempio il vice di Göring e persino era sospettato di avere un nonno, un bisnonno ebreo, Rainer Heydrich, quello che si è inventato la soluzione finale. Per cui basta retorica, basta bugie sanguinose e basta prenderci per dei deficienti che ci dobbiamo vergognare. L'Occidente pianifica i propri interessi con un cinismo senza limiti. Oggi ero in una trasmissione e ho fatto notare una piccola cosa che da decenni un membro della Nato, la Turchia, macella il popolo kurdo. Anche adesso. Sapete cosa ha detto una giornalista molto sussiegosa di Repubblica? Ha detto ma concentriamoci sul presente. Allora io dico come ebreo lo dico. Allora perché spacchiamo il cazzo al mondo con i morti della Shoah? Ciao!